C'è un articolo su cui sto lavorando che è dinamite. Non avevo idea che scrivessi. A quali scrittori ti ispiri? A Shakespeare, Krakauer, quella mammina sexy che ha scritto Twilight. Ho un articolo perfetto per farti iniziare. C'è uno che dice di conoscere il segreto del triangolo delle Bermuda. Tra tre settimane ti porterò un articolo che ti farà impazzire. Dalla 20th Century Force che ha prodotto una notte al museo... Da dove venite? Dall'isola di Manhattan. Eravate il presidente? In effetti ero noto come il presidente dei fenomeni. Per la prima volta sono gli altri ad alzare gli occhi per guardarlo. Per cuccare una principessa devi sfoderare un corteggiamento di serie A. Puoi istruirmi. La prossima volta, dille... Mi piace da morire. Ci sono tante cose nella vita. Potresti essere una delle tante. E finalmente ora può emergere. Scorrere per sbloccare. Ho 12 messaggi. Sono Mr. Successo. Ma proprio quando pensa di aver trovato il posto giusto, scoprono chi è veramente. Io ti sfiderò a Duel. Dunque intendi accettare? Fa la tua mossa. Io mi arrendo, io mi arrendo, io mi arrendo. Non potete arrendermi. Ci avevi detto la tua parola. Sono un semplice impiegato dell'ufficio posto. Nel 2011. Piantala con le lagne, uomo. Ti consideri una cosetta tanto piccola, ma non sei così. Per me ce la puoi fare. Lui dimostrerà di essere quell'eroe. Vorrei essere di nuovo il vostro glorioso protettore. Come facciamo a credere a quello che dici? Perché la mia parola è il mio impegno. Per davvero. Che ha sempre finto di essere? I blefuschiani attaccano! Andiamo a sconfiggerli. Jack Black. Salve ragazzi. Vengo in pace. Fuoco! Ma sono invincibili. I fantastici viaggi di Gulliver. Buoni un po'? Ah, carino.